Servizi socio-sanitari nella proposta di legge discussa e approvata a maggioranza dall'Aula. Nuove disposizioni in materia di distanze minime tra le strutture residenziali soggette ad autorizzazione. A spiegare l'atto il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Questa legge nasce dalla convinzione, dice, che sui servizi socio-sanitari siano necessari una programmazione e un governo regionale in relazione alle esigenze dei cittadini indirizzando verso una diversificazione. Questo perché vorremmo che ci fosse una distribuzione dei servizi che sia legata ai bisogni dei cittadini e non agli interessi soltanto di alcune imprese. Noi abbiamo bisogno intanto, per esempio, che ci sia una distribuzione omogenea sul territorio toscano e che i servizi siano differenziati. Non abbiamo bisogno solo di RSA, abbiamo servizi di centri di urni, di servizi per chi ha più abilità e possa continuare comunque a avere una vita autonoma ma con una serie di aiuti e di servizi. Insomma, c'è necessario di un quadro generale sul quale l'assessore sta già lavorando. La legge poi introduce una norma transitoria in attesa della programmazione della Giunta regionale che dice Non si può fare un RSA a meno di un chilometro da un'altra. La razza di questa è abbastanza chiara. Noi vogliamo combattere quel sistema di elusione che è in corso in Toscana perché, come sapete, la norma toscana vieta RSA con più di due moduli di 40 persone e quindi massimo 80 posti. Attualmente in Toscana assistiamo a RSA che vengono fatte in batteria per eludere la norma. Provedimento che passa a maggioranza. 21 voti favorevoli, quelli di PD e Italia Viva. Questa norma consente agli interventi una maggiore qualità ma soprattutto una maggiore umanità degli interventi. Questa è la finalità e anche la sostenibilità. Il sistema dell'RSA a Toscana ha bisogno di un livello di sostenibilità, di un adeguato finanziamento ma anche normativa che mettono nelle condizioni chi fa investimenti di poter adeguare le strutture e fare interventi che ovviamente vedano sempre e comunque la persona al centro di queste iniziative. Il Movimento 5 Stelle e la Lega si astengono. Ci siamo ritrovati di fronte allo stravolgimento di una PDL e abbiamo chiesto se la potevamo riportare in commissione. Così non è avvenuto, ci siamo astenuti ma questo non vuol dire che non riproporremo in commissione stessa il percorso di quei punti degli emendamenti che sono stati approvati oggi in Aula. Quali sono i punti che a voi stanno a cuore? Beh, intanto non mi sembra che sia corretto che l'assegnazione di una RSA pubblica vada messa al bando con un'offerta a ribasso. Un'offerta a ribasso vuol dire che o non si danno servizi o non si dà la struttura o non si dà il mangiare di quello che è necessita per cui credo che già questo è un aspetto. Poi c'era appunto il discorso delle distanze e va bene ma ci sono le quote sanitarie che le RSA stavano richiedendo c'è stato l'aumento delle RSA in concomitanza con l'aumento dell'IRPEF cioè ci sono delle cose che sinceramente andavano approfondite. Tecnicamente la proposta così come formulata aveva un senso e sicuramente andava a colmare invece un lassismo che c'era stato da parte della regione precedentemente un lassismo che è stato anche nei controlli tra l'altro del proliferare di RSA che in alcuni casi appunto si sono andate moltiplicando su un territorio però dobbiamo andare a monte della questione del fatto che ad esempio sono aumentate anche le tariffe per il privato che decide di mandare o ha necessità di mandare il proprio familiare in un RSA e anche sulla qualità ci sono stati purtroppo dei casi poco edificanti su cui la regione prima di andare a fare una modifica su questi dettagli avrebbe dovuto vigilare molto di più. Contrario il gruppo di Fratelli d'Italia Noi pensiamo che il mercato dell'RSA utilizzo questo termine brutto sia un mercato chiuso ci sono 100 posti letto a disposizione e 150 persone che hanno bisogno famiglie che hanno bisogno di un posto letto nell'RSA questa norma contribuisce a mantenere chiuso quel mercato noi pensiamo che non è detto che piccolo sia buono così come è detto che grande sia cattivo noi pensiamo che buono sia buono e da questo punto di vista specialmente in un momento in cui la popolazione anziana cresce in un momento in cui le famiglie sempre meno sono disponibili a tenere in casa anziani ci sia bisogno di strutture adeguate, efficienti, moderne dove ci sono gli strumenti della modernità che siano palestre degnitose, piscine ma anche connessioni internet anche sale per collegarsi dal remoto con i parenti che stanno lontani da casa per quando non possono venire a trovare la persona anziana che ci siano corsi di computer che ci siano spazi dove poter guardare documentari, film e tutto il resto, quello che la modernità offre Il presidente della commissione sanità replica alle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia è evidentemente falso chi dice che questa norma transitoria voglia in qualche maniera combattere gli imprenditori ostacolare gli imprenditori e vogliono legittimamente investire i privati e vogliono investire in Toscana tutt'altro, questa norma non limita minimamente la possibilità di un investitore di fare un RSA di 80 posti in qualsiasi parte della Toscana dubito che chi vuole fare un nuovo investimento lo voglia fare a meno di un chilometro da due o trecento metri da un RSA che c'è già Si torna in commissione perché l'esame in commissione non era ancora terminato il fatto che quella norma avesse avuto la necessità di approfondimenti anche con il supporto del nostro legislativo per chiarire e approfondire tutti gli aspetti è segno che la commissione stava lavorando sinceramente è la prima volta che una legge che all'esame di una commissione viene forzata chiamiamola così e mandata in aula senza aver chiesto col parere quindi lo ritengo prima di tutto un corretto utilizzo delle commissioni dello sviluppo della democrazia e quindi degli strumenti della democrazia che si articolano nel Parlamento Toscano in commissioni e infine l'aula quindi abbiamo ritenuto che le forzature che non vanno mai bene devono essere rispettose del lavoro che la commissione sta facendo soprattutto del lavoro che gli uffici nostri stanno facendo per aiutarci a scegliere la cosa migliore Così la Presidente della Commissione Sviluppo Economico spiega il rinvio in commissione della proposta di legge 218 sui nuovi criteri di nomina dei vertici di sviluppo toscana Beh questo lo guarderemo in commissione anche perché come è stato detto si va a crescere come sviluppo toscana nelle competenze nella qualità del lavoro da fare quindi anche quando si individuano profili e competenze dobbiamo stare attenti che queste vengano rispettate e che crescano insieme a quello che è il ruolo che dovrà assumere Sviluppo Toscana che è così strategica per il supporto all'azienda nella nostra regione Anche il centro-destra e il Movimento 5 Stelle dicono sì al ritorno in commissione la legge così come era arrivata in aula era inaccettabile Sì il nostro voto favorevole perché questa legge va a togliere il requisito principale per cui è nata Sviluppo Toscana quella di mettere diciamo tutta la gestione delle imprese dei bandi europei di tutta la gestione delle attività produttive sotto un'unica società in house a capo di un direttore generale che riteniamo giusto e una condizione diciamo obbligatoria quella che abbia dei requisiti all'interno di aziende o comunque di altre partecipate similari a Sviluppo Toscana oggi abbiamo visto questa proposta di legge che era passata anche dalla commissione ma con una forzatura di Italia Viva stata portata direttamente in aula che chiede di cancellare il requisito principale che è quello di un direttore generale che abbia delle competenze specifiche in attività similari a Sviluppo Toscana come Lega eravamo pronti con 500 emendamenti da presentare in aula perché riteniamo che l'organo legislativo del Consiglio regionale sia un organo serio e debba avere il rispetto che tutti meritano che è quello di non portare leggi ad personam che quella legge e quella modifica normativa è una legge ad personam che ha visto un iter lungo abbiamo visto e letto sui giornali già la persona individuata per quel ruolo che ci dicono non avere i requisiti di 5 anni all'interno di un'azienda similare a Sviluppo Toscana il giorno che capiranno che non è cambiando le leggi per togliere le competenze a chi deve essere nominato ma scegliendo persone che abbiano le competenze previste dalla legge che si fa un servizio alla Toscana immagino sia un giorno di grande successo ma è una lingua questa sconosciuta Italia Viva Italia Viva ha continuato a presentare una proposta di legge che in molti hanno definito sartorialmente creata per una specifica figura a dell'incredibile anche perché c'erano oltre alla variazione di legge che andava a intervenire su una figura che non sono speculazioni giornalistiche ma precise dichiarazioni di Eugenio Gianni era già stata individuata ebbene questa forzatura di legge che veniva fatta non sarebbe stata comunque sufficiente e su questo si era già espressa l'avvocatura regionale e i revisori dei conti e lì si tratta di numeri quindi 5 anni di esperienza che invece sembrava fossero 2 quindi fondamentalmente sarebbe stato più di una forzatura sarebbe stato un grave danno istituzionale per un organismo sviluppo toscana che invece ha bisogno di persone ferrate e soprattutto che si accingia a un lavoro molto difficile che avrà nei prossimi anni quindi bene che ci sia stato questo rinvio unica forza a votare contro il rinvio in commissione è Italia Viva si tratta dice dell'ennesimo rinvio che non si può sempre rinviare le cose importanti sono 5 mesi che il consiglio regionale è chiamato a deliberare su una legge che deve dare la individuazione di alcuni elementi che porteranno all'individuazione di un direttore generale che possa avere un curriculum qualificato noi abbiamo sempre detto che per guidare le grandi aziende toscane serve merito serve competenza serve una selezione più trasparente possibile e come tale ci siamo battuti nel sostegno di una proposta che il presidente aveva fatto e dispiace che si torni indietro rispetto a questa individuazione di un percorso di massima trasparenza che poteva anche e doveva a quel punto ripartire ex novo ma che avrebbe potuto ampliare la possibilità dei soggetti che potevano ambire a guidare una delle aziende più importanti della Toscana l'accusa però è quella di ridurre i criteri selettivi noi riteniamo che si possa e si debba ampliare la possibilità dei soggetti che si debbano candidare a guidare le grandi aziende toscane bisogna uscire da un reticolato stretto e quindi ampliare sempre più possibilmente le persone che possano misurarsi con la guida delle direzioni delle aziende toscane soltanto così le nostre aziende possono crescere possono sviluppare questa è la nostra filosofia e come tali vorremmo sempre comunque individuare nel merito e nelle competenze mettendo ovviamente dentro un quadro di selezione pubblica le individuazioni dei manager poi quello compete alle società non tocca a noi ciò avrà conseguenze politiche in maggioranza? Il Partito Democratico ha adottato questa tecnica del rinvio perenne riteniamo che sia un errore perché è impensabile che si debba stare cinque mesi a discutere su una legge che poi di fatto è fatta da un articolo noi siamo per decidere abbiamo il diritto di chiedere la votazione lo abbiamo fatto si è scelto un'altra strada e continueremo a combattere nelle commissioni la commissione sanità del consiglio regionale ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze incontro con il personale sanitario amministrativo la visita alle strutture e ai vertici dell'azienda ospedaliera universitaria al centro la novità che dal 2022 vede il Meyer come IRCS ovvero istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e pubblico la prima volta in Toscana ricordiamoci non ci sono mai stati la legge non prevedeva la possibilità di istituire X pubblici e quindi questo è un passaggio importante che vuol dire rinvestire su quello che è la parte fondamentale dell'attività di un'azienda ospedaliera e quindi anche del Meyer cioè l'attività di ricerca che il Meyer già svolgeva in maniera importante ma che ora può continuare a svolgere con ancora più forza questo è il nostro intento sappiamo tutti il Meyer è uno dei più grandi ospedali pediatrici nazionali e non solo un punto di riferimento un orgoglio per tutti i toscani e per tutto il paese quindi è giusto continuare a investire e attrarre competenze il riconoscimento di centro di ricerca fa accedere a finanziamenti e ci permette di agganciarci a una serie di reti nazionali e internazionali alle quali possono accedere solo gli istituti di ricerca sottolinea il direttore generale Morello Marchese IRCS che sta facendo tutti i passi necessari sia amministrativi ma in modo particolare proprio di progettazione sull'attività di ricerca quindi insomma è un ospedale che corre che naturalmente è utilissimo confrontare la nostra realtà con poi anche quella della terza commissione si è parlato si è parlato poi della rete pediatrica toscana la rete pediatrica risponde all'idea che i bambini in qualsiasi parte di una regione come abbiamo visto un modo di ripercorrere anche oggi molto diversa da un punto di storografico di popolazione possono avere lo stesso livello di trattamento in qualsiasi parte della nostra regione grazie a quella scelta oggi c'è già funzionante una rete di collegamento e di teleconsulto in tutti gli ospedali della nostra regione quindi i genitori possono essere sicuri se vanno in qualsiasi ospedale della nostra regione c'è il teleconsulto con il Megier che è il punto capofila e quindi ovviamente questo è un lavoro che deve andare avanti intanto da alcuni giorni l'ospedale Megier sta ospitando alcuni bambini provenienti dalle zone della striscia di Gaza altri ne arriveranno di intesa con il ministero siamo in attesa sì sì è previsto il rapporto col ministero prevede proprio un arrivo di altri bambini e per ora è proprio tutto aperto quindi noi siamo pronti con tutti i reparti secondo la necessità insomma ma questo fa parte della nostra storia dopo la visita all'interno dell'ospedale si è tenuta la seduta della commissione sanità abbiamo visitato i reparti ovviamente io che mi sono laureato oltre 40 anni fa all'ospedalino Meyer vedo che la situazione è cambiata in maniera eclatante tanto è vero che forse lo chiamiamo ancora ospedalino ma per una sorta di affetto perché questa è veramente un'eccellenza io mi rendo conto che è un ospedale veramente di riferimento non soltanto per la Toscana ma per tutta l'Italia credo che si possa sempre migliorare ma ovviamente anche il modo in cui si fa la professione cioè i medici riescono e gli infermieri riescono a avere quella tranquillità quella serenità da poter trasmettere ai piccoli pazienti questo senso di disagio diciamo ridotto dovuto alla stessa alla loro condizione Ci sono due mesi intensi di incontri laboratori webinar sopralluoghi quindi tutta una serie una molteplicità di iniziative e di incontri che sono volti proprio a consentire ai cittadini di comprendere pienamente le caratteristiche di questo progetto di poterle discutere tra di loro con i progettisti con i proponenti quindi con la ASL con il comune per riuscire a fare delle raccomandazioni delle proposte e delle domande ovviamente ai proponenti e ai progettisti per migliorare questo progetto e renderlo il più possibile adatto ai bisogni della città Partirà il prossimo 14 febbraio il percorso partecipativo sul progetto del nuovo ospedale di Livorno due mesi di confronto promosso dall'autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione passaggio obbligato per legge per interventi di una certa rilevanza poi la relazione conclusiva sarà vincolante non è vincolante quello che esce dal dibattito pubblico a conclusione di questi incontri io sono chiamata a fare una relazione un rapporto finale in cui devo proprio raccogliere tutti gli elementi che sono emersi tutte le domande gli interrogativi le preoccupazioni e le proposte e consegnare ufficialmente questo documento ai proponenti saranno poi loro a dire e a dover giustificare diciamo le loro risposte a partire da quello che è emerso dal dibattito che tempi vi siete dati i tempi per il dibattito sono 14 febbraio 11 aprile perché poi a giugno ci sono le elezioni quindi abbiamo dovuto stringere un pochino i tempi e la relazione conclusiva sarà invece presentata a luglio proprio per garantire nella fase preelettorale questo silenzio insomma il nuovo ospedale la cui posa della prima pietra è prevista nel 2025 sorgerà nell'area ex Pirelli dietro gli attuali spedali riuniti sarà un'occasione in più per soprattutto parlare del modello sanitario che andrà dentro quella struttura e di come la struttura si inserirà nel comparto della città e poi anche di come tutto il quadro complessivo anche dei vecchi padiglioni verrà riorganizzato in quella che definiamo noi la cittadella della salute un fitto calendario di incontri e anche un sito internet dedicato dp nuovoospedalelivorno.it un passaggio non formale sottolinea la direttrice generale della ASL Toscana Nord-Ovest credo davvero che l'ospedale possa diventare la casa dei professionisti e dei cittadini nella misura in cui siamo in grado di accogliere ascoltare e loro ascoltare noi su quelle che sono le nostre difficoltà e i nostri vingoli le loro necessità quindi abbiamo previsto tante modalità diverse di partecipazione proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo prendere atto nella progettazione definitiva quelli che sono gli output di questo passaggio un passaggio che ritengo fondamentale lo dico sempre ma veramente io ci credo moltissimo se la comunità che è quella che utilizza i servizi e le pubbliche amministrazioni non parlano uno stesso linguaggio non condividono una stessa linea credo che non si dia un buon servizio che è un buon servizio